Il carico occupazionale delle donne, tra famiglia e professione, è molto elevato e può intrecciarsi a fenomeni di depressione. Un convegno, tenutosi in occasione della nona edizione del Sanit, discute della depressione femminile tra questioni di genere, socioculturali e di stigmatizzazioni. Come si configura la depressione femminile? Quali sono le principali cause? Sono più d'ordine genetico o piuttosto socioculturale? Non è possibile fare una distinzione netta. Esistono varie forme di depressione. Lo stesso concetto di depressione cambia a seconda del contesto culturale dell'epoca in cui viene definito. Le varie cause ipotetiche dipendono da come definiamo il fenomeno. Quindi ogni società, ogni epoca definisce le cose in modo diverso e quindi va a cercare anche delle ragioni diverse per spiegarselo. In che senso il concetto di depressione ha anche a che fare con un'idea di identità della donna? Ha a che fare con l'idea di identità della donna perché l'identità della donna è l'identità in generale del gruppo sociale a cui la donna appartiene. È strettamente legato col modo in cui vivo le cose, in cui le esperisco, il tipo di significato che gli do e quindi anche il modo emotivo con cui leggo le situazioni e reagisco alle situazioni che vivo. E di conseguenza, a seconda di come questi fattori si correlano tra di loro e cambiano, cambia anche il modo di vivere dal punto di vista emotivo l'evento e eventualmente anche la possibilità di andare verso un aspetto un pochino più, come dire, di umore depresso, triste e quindi anche questo tipo di possibilità. Lo stigma è un fattore determinante per la depressione? Lo stigma è un fattore che sicuramente aggrava il problema della depressione e le donne sono una minoranza particolarmente a rischio, in quanto lo stigma è più elevato. Nella ricerca di cui abbiamo portato oggi i risultati sul carico occupazionale delle donne e depressione e stigma abbiamo visto come le donne subiscono un carico di stigma superiore a quello degli uomini in ambito lavorativo. E questo ha un'influenza molto importante in quanto forma una barriera alla possibilità di richiesta di aiuto, alla possibilità di intervento e di dichiarare il proprio Stato. La depressione nelle donne è in numero due o tre volte superiore rispetto a quella maschile in tutte le fasce d'età. I periodi legati alla gravidanza sono particolarmente delicati e la maternity blues è una realtà che però comunque solo nel 20% dei casi sfocia in una vera e propria patologia, la depressione postpartum. Il carico sociale, il carico culturale a cui la donna è sottoposta è attualmente, possiamo dire, che è sicuramente superiore a quello dell'uomo. La donna si trova continuamente di fronte al dilemma tra il ruolo di madre, il ruolo di moglie, il ruolo di lavoratrice. E quindi tutti questi fattori contribuiscono. Ve ne sono anche altri nel periodo per i Natali in particolare, come per esempio la disregolazione dei ritmi sociali. L'arrivo di un bambino sconvolge completamente i ritmi, per esempio i ritmi sonnoveglia o i ritmi dei pasti, del tempo libero, del riposo. Quali sono i sintomi della depressione postpartum? I sintomi della depressione postpartum sono sovrapponibili ai sintomi che si hanno nella depressione in altri momenti della vita. E quindi sono un umore triste, un umore depresso, una perdita di piacere nel fare le cose, una perdita di interesse, astenia, quindi scarsa energia, disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, mancanza di concentrazione, molto molto spesso ansia e rispetto ai disturbi nel postpartum l'ansia è incentrata completamente sul bambino.